questo video è offerto da William è cambiato tutto in poche settimane la lista dei calciatori in effetti in esubero sei uno dei simboli che oggi ha presentato le nuove magliette della US Tabbia è cambiato tutto però diciamo che è la fortuna che è rimasto poi il presidente sono felicissimo di essere tornato come sapete iniziamo questa nuova avventura come dico io una sola parola ricominciamo diamo il benvenuto anche oltre che tutti i ragazzi al mister dove abbiamo lavorato veramente benissimo e niente che dire da domani iniziamo a fare un po' sul serio un po' iniziamo a fare sul serio e quindi niente speriamo di ricominciare questa avventura alla grande assolutamente la tua sensazione personale dopo essere andato via a gennaio ora con quale spirito torni a Castellamore? ma guarda io sono venuto con uno spirito è come se non avessi ti dico la verità mai abbandonato comunque il progetto la cosa bella come ho detto che la fortuna che c'è questo secondo me questo presidente che vuole fare assolutamente le cose in grande vuole portare vuole far ritornare comunque il grandissimo entusiasmo che c'è stato in questi tantissimi anni nonostante questo inconveniente che tutti sappiamo e che dire speriamo assolutamente che la gente ritorni come è sempre stato alla fine a ritornarci quell'affetto e noi speriamo di comunque ridargli determinate soddisfazioni e ricaricarli assolutamente ecco da partù la salvezza l'avevi conquistata sul campo con il Cittadella magari speri un po' che lunedì possa arrivare qualche buona notizia da Roma? diciamo per scheromanzia non diciamo niente è normale si spera se è una cosa che verrà ci mancherebbe altro ben volentieri però comunque sia siamo già mentalizzati a ciò che si aspetta poi dopo se succederà questa bellissima cosa ben venga assolutamente nuova US Stabia, nuovo gruppo, nuovo allenatore le tue sensazioni su questo nuovo organico? guarda sensazioni assolutamente ottimissime a partire comunque dal mister a partire comunque dai nuovi ragazzi e soprattutto dai giovani dove diciamo noi che abbiamo un pochettino di esperienza capito così cercheremo di indirizzarli al meglio per rendere tutti quanti far sì che ci toglieremo delle belle soddisfazioni invece cosa senti di promettere ai tifosi? guarda la cosa che possiamo promettere è che il nostro dovere è assolutamente dare il massimo impegno come ha detto il mister prima onorare assolutamente questa maglia cioè assolutamente uscire distrutte al novantesimo comunque sia poi dopo noi cercheremo sempre di dare il massimo è naturale cercare di ottenere il massimo di risultato però quello che prometto è assolutamente io e i miei compagni cercare di dare comunque il massimo nei novanta minuti di gioco assolutamente